Buon mattino lo spread parte dritto sopra quota 300, è probabile che sarà una giornata molto difficile sui mercati, io ve l'ho detto, sacchi di sabbia alle finestre perché sta arrivando davvero l'onda pericolosa. Ieri sapete che contro la manovra del governo si è schierata anche la Banca d'Italia, anche l'ufficio studi della Camera dei Deputati hanno detto tutti guardate con questa manovra si va a sbattere, persino il ministro Savona ha detto se lo spread dovesse raggiungere quota 400 dovremmo rivedere la manovra per salvare il paese dall'impazzimento generale, un paese che però è narcotizzato, io ho guardato i dati d'ascolto delle ultime due serate televisive e in maniera pazzesca i programmi più visti da milioni di persone durante queste due serate televisive che sono serate in cui tutti dovremmo essere molto preoccupati per i destini del paese, nessun programma di informazione, vincono due programmi di Canale 5, il primo si chiama Grande Fratello VIP, il secondo si chiama Taptation Island, uno per cercare di capire a che livello siamo impazziti. Il livello del Grande Fratello VIP è che ormai l'omofobia è la parola malvagia per eccellenza ovviamente, non si può essere in alcun modo anche solo dichiaratamente contro il matrimonio omosessuale per esempio assomente vietato, l'omofilia è invece il tratto distintivo. La puntata del Grande Fratello in prima serata ovviamente davanti a tutti i bambini, ragazzi, giovani e adolescenti verteva nel suo momento clou nel passaggio di una noce di bocca in bocca da un maschio dichiaratamente omosessuale ad altri maschi molto belli a cui l'omosessuale si avvinghiava mentre passava questa noce di bocca in bocca creando l'effetto del bacio che è insomma in tutta evidenza. Non paghi di questa meravigliosa immagine perché ripeto omofobia ovviamente parolaccia brutti cattivi gli omofobi, l'omofilia è invece dominante al Grande Fratello. A seguire diciamo dopo questa scena davvero per certi versi molto pesante da vedere è il concorso di bellezza tra cinque bei ragazzi, tra cui una medaglia d'oro olimpica voglio dire io, una medaglia d'oro olimpica vabbè, cinque bei ragazzi, vedremo il fisico, vedremo la bellezza dei loro occhi, la bellezza dei loro tratti somatici, no, il concorso di bellezza era mostrare il culo letteralmente, cioè carità tutto vero ma se l'impazzimento ce lo mettono davanti così, ragazzi noi stiamo mandando il nostro cervello completamente in pappa, facendo saltare i capisaldi ovviamente, no? La coppia etero deve sfasciarsi per forza, tutti tradiscono, il messaggio è chiaro. Quanto è bella e allegra invece la sessualità omosessuale che è bello baciarsi con Ivan Cattaneo davanti alle telecamere alle nove e mezza di sera che è bello mettere il culo a pippa e farsi giudicare come bellezza maschile sul proprio culo ma è follia pura, follia pura. Ragazzi è tutto collegato, abbiamo il ragazzo 33enne che fa il vicepremiere e dice alla Banca d'Italia candida alle elezioni se vuoi criticare la mia manovra economica, abbiamo gente che fa una manovra economica e ci porterà al disastro in tutta evidenza, abbiamo il settore calcistico che vi ho raccontato, altro luogo dove evidentemente costruiamo dimensioni disastrose e poi tutta la sera quando alla fine dovremmo fare una riflessione su quello che sta accadendo ci mettono davanti. Ma è perfetto, il titolo Grande Fratello è perfetto perché è la fotografia perfetta della società orwelliana in cui siamo precipitati.